Il gruppo CITAT si occupa di sanità da oltre 30 anni. Il gruppo CITAT è stato il primo centro che ha installato la risonanza magnetica in Umbria, addirittura prima degli ospedali, e tuttora si caratterizza per questa tecnologia elevatissima perché ha installato l'ultima generazione della risonanza magnetica. L'altro elemento importante del gruppo CITAT è che si dota di professionisti di assoluta eccellenza. Sono professionisti che hanno molta esperienza nell'azienda ospedaliere e negli ospedali per dare proprio una risposta di altissima qualità ai pazienti. Il gruppo CITAT è un gruppo convenzionato con il sistema sanitario regionale e con le più importanti assicurazioni. Il centro praticamente storico è la Domus Grazie dove c'è tutta la diagnostica pesante, c'è la risonanza magnetica, l'attacca, la radiologia, la mammografia, c'è la diagnostica neurologica, la diagnostica cardiologica e la parte ortopedica che viene curata in questo centro. Il secondo centro è il Murri, collocato praticamente in centro città, nasce come centro fisioterapico ma adesso non solo fa fisioterapia ma fa anche odontoiatria e soprattutto lì c'è la parte endoscopica attivata recentemente con professionisti di assoluta eccellenza e la piccola chirurgia con professionisti che effettuano anche piccoli interventi, interventi dermatologici, piccoli interventi chirurgici, urologici e quant'altro, oltre a tutta la diagnostica vascolare. Il centro di Orvieto è il terzo centro, presenta una diagnostica radiologica importante, anche di tipo interventistico, c'è la diagnostica cardiologica, la diagnostica ortopedica e quindi è l'unico centro convenzionato che è nella città di Orvieto. Recentemente il gruppo CIDAT ha integrato altri due centri che svolgono attività di fisioterapia e a cui sono stati aggiunti recentemente le attività diagnostiche e multispecialistiche come la cardiologia, come l'ortopedia, come la diagnostica ecografica e vascolare. I due centri sono collocati, uno nel nord della città, a Borgo Rivo, e l'altro ad Arrona. I due centri sono collocati, uno nel nord della città, a Borgo Rivo, e l'altro ad Arrona.